Rischiano di saltare le primarie a Praia Mare, due le motivazioni che metterebbero in discussione la corsa 3 tra Pasquale Fortunato, Pietro De Paola e Gino Spolitu. La prima ufficiosa spiegata a Cida Fortunato, secondo cui il tentativo di trovare un candidato comune condiviso è fallito, vista la nascita di nuovi gruppi che hanno aumentato la confusione e la frammentazione del quadro politico praiese e che non appoggiano le primarie. La seconda viene dalla lettera del Comitato Garante che si occupa di stilare le regole di svolgimento della competizione e inviata ai tre candidati e che chiede una nuova data per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle operazioni di voto al fine di compiere tutti i numerosi adempimenti che tale evento richiede. Insomma, i termini del 18 novembre, ultimo giorno utile in cui si dovevano presentare le candidature, e del 18 dicembre, giorni in cui si dovrebbe votare per scegliere il candidato a sindaco della lista avversaria di Antonio Praticò, sono saltati. Fortunato non ha negato comunque che tutto viene messo in discussione, ogni mio sforzo è tesa a creare unione, spiega il candidato alle primarie, ma sono comunque pronto a lavorare ad un mio progetto a stretto giro con i miei sostenitori. Differente la lettura dell'altro candidato Gino Spolitu che contesta, Fortunato, poca chiarezza e di aver messo in dubbio solo oggi accordi già presi. Il dottor Pasquale Fortunato, a mio parere, e non me ne dolga più di tanto, ha mancato di rispetto nei confronti di persone e dei loro entourage che su questa data del 18 dicembre avevano investito la loro parola e anche la sua. Me ne dolgo, legittimamente può fare ciò che vuole, uno può ritornare sui suoi passi quando vuole, però ecco avrebbe dovuto spiegarlo ai cittadini. Mi auguro che lo faccia, ma senza nuvole di passaggio e senza compitini scritti da qualcun altro. Spolitu infine conferma, le primarie ci saranno. La data del 18 dicembre, per quello che mi comporta e che io so anche da pochi minuti fa, da parte dell'altro candidato, De Paola, è confermata, è confermatissima. Aspettiamo sempre, da parte nostra, un ripensamento del dottor Pasquale Fortunato, aspettiamo un ripensamento di altre persone, di Giacomo Bello che ha deciso di scendere in campo con la sua proposta di alternativa, aspettiamo la di Presbyteres che si vocifera voglia scendere in campo, aspettiamo cedolia, aspettiamo chiunque voglia partecipare alla vita politica di Praia. Grazie.